I sogni di Gloria si infrangono nella lotta. Gli Indy hanno bruciato tutte le provviste. Una nuova passione irrompe nella battaglia. Muoio per lei. Come potete dire una cosa del genere? Ci attaccano! Aprite! Ci sono più di cento Indy là fuori. Lei morirà per colpa mia! Ines dell'anima mia. Prima assoluta venerdì canale 5.